chi è papa francesco george mario bergoglio è la guerra sporca in argentina papa francesco non ha elaborato le cause profonde dell'oscurità ne ha riconosciuto la all'interno della chiesa cattolica dall'inizio del suo mandato vaticano nel marzo 2013 fino alle rivelazioni dello scandalo sessuale all'inizio del 2018 si avete capito bene scandalo sessuale all'inizio del 2018 carlo maria vigano ha comunicato in una testimonianza di 11 pagine che papa francesco era coinvolto dall'inizio del suo pontificato nel marzo 2013 nella copertura delle accuse per abusi sessuali contro l'ex cardinale avete capito bene delle accuse per abusi sessuali contro l'ex cardinale nella sua testimonianza del 2018 l'arcivescovo vigano ha riconosciuto che abusando della loro autorità hanno commesso crimini orrendi a danno dei loro fedeli minori sì dei minorenni vittime innocenti e giovani desiderosi di offrire la loro vita alla chiesa e con il loro silenzio non hanno impedito che le dichiarazioni dell'arcivescovo vigano che rimangono ancora da confermare contro papa francesco riguardano dei presunti abusi inclusa la pedofilia sì la pedofilia commessa all'interno della chiesa cattolica per cui papa francesco aveva casualmente chiuso un occhio prima della sua elezione nel conclave pontificio il ruolo di nella guerra sporca argentina è documentato e noto al dipartimento di stato degli stati uniti george mario bergoglio non solo ha sostenuto la dittatura militare ma è stato anche complice svolgendo un ruolo diretto nella guerra sporca insieme alla giunta militare guidata dal generale giorge videla che ha portato all'arresto alla detenzione alla tortura e alla scomparsa di preti e laici cattolici progressisti contrari al governo militare argentino i sopravvissuti alla guerra sporca accusarono apertamente con un articolo pubblicato su el mundo il cardinale giorge bergoglio di complicità nel rapimento dei sacerdoti francisco jalix e orlando iorio e di sei membri della loro parrocchia che erano tutti scomparsi al suo rilascio il sacerdote accusato bergoglio di averle effettivamente consegnati incluse altre sei persone agli squadroni della morte sia agli squadroni della morte dichiarò sono sicuro che lui stesso ha consegnato alla marina l'elenco con i nostri nomi maria marta vasquez suo marito cesar lugones e monica candelaria presumibilmente consegnati agli squadroni della morte dal gesuita provinciale giorgio mario bergoglio sono tra i migliaia di disapparecidos quindi le persone che sono scomparse della guerra sporca argentina chi è giorgio mario bergoglio